In coincidenza con il Black Friday, la giornata delle vendite a prezzi scontati, i lavoratori del colosso delle vendite online Amazon hanno scioperato in tutto il mondo. I dipendenti del gruppo di Jeff Bezos protestano per i bassi salari e le pesanti condizioni di lavoro, pur in presenza di enormi profitti registrati dall'azienda. Ronnie Strike, portavoce del sindacato tedesco Verdi, spiega che intenzione dei lavoratori fa emergere questa contraddizione. I dipendenti sono insoddisfatti, c'è davvero tanto da cambiare in termini di salari e di condizioni di lavoro. Il venerdì degli sconti ha scatenato proteste anche in Spagna, ma di altro tipo. A Madrid le associazioni ambientaliste come Greenpeace hanno ammassato grandi quantità di rifiuti in una delle più frequentate vie commerciali della città, con l'intenzione di rendere visibile l'impatto ambientale generato dai Black Fridays. Grazie. Grazie.